Musica Dario Cristian, Matteo Tomellin, Lorenzo Lianes, Simone Fedel, Edoardo Rossi, Maronen Massuti Musica Applaus Musica Ecco che vi arrivi nella seconda serie per il progetto Cadetti Musica E' la campestrina corrispondiva a Borgo Musica 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 ecco che vi arrivi nella seconda serie per il progetto Cadetti sminta da IA Capestrini della Corrispottiva Borgo partita anche la terza e l'ultima serie mentre il 300 tranquillissimo dunque anche nei due chilometri in marcia stanno ora correndo Massimo Torghele adesso Rossi a mezzo a Tresir Marco Filippo Davide Angeli attenzione su una retina in seconda prossima Massimo Torghele contattori del gruppo sportivo Spera è il primo a prezzo di questa terza e ultima serie 300 Cadetti partita anche la terza e l'ultima serie mentre il 300 tranquillissimo dunque anche nei due chilometri in marcia stanno ora correndo Massimo Torghele adesso Rossi a mezzo a Tresir Marco Filippo Davide Angeli attenzione su una retina Massimo Torghele Massimo Torghele contattori del gruppo sportivo Spera è il primo a prezzo di questa terza e ultima serie 300 Cadetti è una interna che si non è guida è un po' che si non è guida è unaata che si non è anche